Il secondo tempo Guarda, è il numero 7, al cerchio di centrocampi Cos'è? Il gioco è completamente diverso Oh no Di una casualità ma io Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Ma chi è il tuo arbitro? Non ce l'è il tuo Non lo tolgo Dai, non lo tolgo No, non lo tolgo Due, 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 quattro, due, quattro No, ragazzi, concentrati Oh, cinque di cento Dai, lì, 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 lì Non lo tolgo Ma chi è? Ma chi è? Guarda, 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 guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda, guarda 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 mi difesa io che sono preto artista, non voglio essere senza esistente bravo Len, ma questo è il mio affamato ma questo è il mondo adminchia guarda Manrico, cosa è qui dietro? vai, vai, vai no, di committività è un mio soldi è un mestiale attenzione come defino io già questo prodotto? facci tutto, vediamo lori te lo dedico che cazzo è lì provo di prima cosa lori te lo dedico che non lo vedi che ci ha fatto tu che criticavi tanto il virus che non lo vedi che ci ha fatto troppo non prevede che non lo vedi che ci ha fatto troppo che vedi nooo vorrei ma che mi convintichi lui è la mia idea di pensiva capito? Complimenti all'esecutore Non so cosa voleva essere Non ho passato Il dottore ha migliorato il dottore Tiè ho preso migliorato il dottore Ho preso migliorato il dottore Bravo Non gasatevi Non ho mai detto dottore Non ho detto dottore Non ho detto dottore Non ho detto dottore No No Non ho detto dottore Ma non ho detto dottore Signori spettatore Vi ricordiamo che la mia città di Mardello Sono segnalate dalle fette Ma non ho detto dottore 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 E' un cavo Bravo Maurone Bravo Maurone Ma è un ala aggiunta Ma non ho detto Ma lui è proprio È un po' E' un po' Ed è un po' Puglame Eccolo qua Ma se mi fatti Ma te mi devi mettere bene Ah io No eh Amaro Lì vado Mi chiede la faccia grande il computer il computer il computer il computer il computer C'è un onore prendermi qualche scuola perché me l'ho da schierta. Perfiga, vicini ai gol. O i gol? No, no, non ho mai avuto un'altra parte. Brazza il negro. Che culo. Bravita io. Ma c'erano davvero difensori stavolta. No, quello di Iori è stato proprio fuori tempo. Io tornavo dalla battuta che ho calcolato. E' un'altra parte che mi mette a tempo dell'angolo che ho un generatore alto 1,20 m. Ma si può dire così di qua. Ma quando è il tempo alto la vita in questo? Brava, brava. Attenzione! Bravo figlio, devi più bravo. Lasciate. Ho messo la mia impronta nella partita, dai! 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 Grazie a tutti.